del figlio e dello spirito santo amene allora oggi festeggiamo il santissimo nome di gesù e gesù significa dio salva e noi questa sera vogliamo recitare questo santo rosario da un rosario un po diverso abbastanza particolare ma questo rosario che dona grandi grazie dietro questo rosario e dietro l'invocazione al santissimo nome di gesù ci sono queste promesse il santissimo nome di gesù seda le tempeste calma gli uragani di qualunque passione sparge la grazia la misericordia il nome di gesù la sua invocazione nutre l'anima in fiamma di amore celeste porta conforti ineffabili e divini procura una buona fama bandisce la tristezza e rallegra il cuore da vigore martiri a tutti i fedeli che combattono per la fede fa che trionfi trionfano generosamente di tutti gli ostacoli di tutti i patimenti di tutte le prove di tutte le persecuzioni della morte stessa questo sacro nome di gesù corona a tutti i vincitori il santo nome di gesù medica tutte le piaghe cura le infermità dell'anima e del corpo il santissimo nome di gesù incadiene il demonio il mondo e la concupiscenza della carne pregando questo rosario vorremmo rendere gloria al signore gesù e riparare le bestemmie uniti a maria santissima madre di die madre nostra allora iniziamo questo rosario che ha una potenza grandissima in riparazione di tutte le bestemmie fatte contro il santissimo nome di gesù e per la nostra guarigione e per la grazia che abbiamo nel cuore o dio vieni a salvarmi signore vieni presto in mio aiuto gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era in principio e sempre nei secoli dei secoli amen io credo in dio padre onnipotente creatore del cielo e della terra e in gesù cristo suo unico figlio nostro signore il quale fu concepito di spirito santo nacque da maria vergine patì sotto ponzio pilato fu crocifisso morì fu sepolto discesa agli inferi il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture ed è salito al cielo si è dalla destra di dio padre onnipotente di là verrà giudicare i vivi e morti e il suo regno non avrà fine credo nello spirito santo la santa chiesa cattolica la comunione dei santi la remissione dei peccati la resurrezione della carne la vita eterna amen prima meditazione che accoglie me non accoglie me ma colui che mi ha mandato allora seduto si chiamò ai dodici e disse loro se uno vuole essere il primo sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti e preso un bambino lo pose in mezzo e abbracciandolo disse loro che accoglie uno di questi bambini nel mio nome accoglie me che accoglie me non accoglie me ma colui che mi ha mandato padre nostro che sia nei cieli sia santificato il tuo nome venga al tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male ame ave o maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazie il signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era in principio e sempre nei secoli dei secoli amen adoriamo e benediciamo ogni momento con maria vergine il santissimo nome di gesù nostro salvatore seconda meditazione dove sono due o tre riuniti nel mio nome io sono in mezzo a loro in verità vi dico ancora se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa il padre mio che è nei cieli ve la concederà perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome io sono in mezzo a loro padre nostro che stai nei cieli sia santificato il tuo nome venga al tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male amen ave o maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad essere nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad essere nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad essere nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad essere nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad essere nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad essere nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad essere nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad essere nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad essere nell'ora della nostra morte amen gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era in principio e sempre nei secoli dei secoli amen o gesù noi adoriamo e benediciamo in ogni momento con maria vergine il santissimo nome di gesù nostro salvatore terza meditazione abbiate in voi gli stessi sentimenti di cristo gesù abbiate in voi gli stessi sentimenti di cristo gesù il quale pur essendo di natura divina non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con dio ma spogliò se stesso assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini apparso in forma umana migliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte la morte di croce per questo dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome caldi sopra di ogni altro nome perché nel nome di gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli sulla terra e sottoterra e ogni lingua proclami che gesù cristo il signore a gloria di dio padre padre nostro che sia nei cieli sia santificato il tuo nome venga al tuo regno sia fatta la tua volontà cominciare così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male ame aveo maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ame aveo maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ame aveo maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ame aveo maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ame aveo maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ame aveo maria piena di grazie al signore di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ame aveo maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ame aveo maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ame aveo maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ame aveo maria piena di grazie grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ame gloria al padre al figlio e allo spirito santo com'era in principio e sempre nei secoli dei secoli ame adoriamo e benediciamo ogni momento con maria vergine il santissimo nome di gesù nostro salvatore nel quarto pensiero di meditazione contempliamo il nome di gesù al di sopra di ogni altro nome che si possa nominare possa egli davvero illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi credenti secondo l'efficacia della sua forza che egli manifestò in cristo quando lo risuscitò dai morti lo fece sedere alla sua destra nei cieli al di sopra di ogni altro nome che si possa nominare al di sopra di ogni principata autorità di ogni potenza e dominazione e di ogni altro nome che si possa nominare non solo nel secolo presente ma anche in quello futuro tutto infatti ha sottomesso ai suoi piedi e lo ha costituito su tutte le cose a capo della chiesa la quale è il suo corpo la pienezza di colui che si realizza interamente in tutte le cose padre nostro che sta nei cieli sia santificato il tuo nome venga al tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male ame ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad essere nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa madre di dio prega per noi peccatori ad essere nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa madre di dio prega per noi peccatori ad essere nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa madre di dio prega per noi peccatori ad essere nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa madre di dio prega per noi peccatori ad essere nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa madre di dio prega per noi peccatori ad essere nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa madre di dio prega per noi peccatori ad essere nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa madre di dio prega per noi peccatori ad essere nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa madre di dio prega per noi peccatori ad essere nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad essere nell'ora della nostra morte amen gloria al padre al figlio al figlio e allo spirito santo come era in principio e sempre nei secoli dei secoli amen adoriamo e benediciamo ogni momento con maria vergine il santissimo nome di gesù nostro salvatore quinta meditazione gesù è la nostra unica salvezza allora pietro pieno di spirito santo disse loro capi del popolo e anziani se oggi siamo esaminati a proposito di un beneficio fatto un uomo infermo per sapere com'è che quest'uomo è stato guarito sia nota a tutti voi a tutto il popolo di israele che questo è stato fatto nel nome di gesù cristo il nazareno che voi avete crocifisso e che dio ha risuscitato dai morti è per la sua virtù che quest'uomo compare guarito in presenza vostra egli è la pietra che è stata scartata da voi costruttori rifiutata ed è divenuta la pietra angolare in nessun altro è la salvezza perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati padre nostro che se ne cieli sia santificato il tuo nome venga al tuo regno sia fatta la tua volontà cominciare così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male ame ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad esso nell'ora della nostra morte ame ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad esso nell'ora della nostra morte ame ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad esso nell'ora della nostra morte ame ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad esso nell'ora della nostra morte ame ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad esso nell'ora della nostra morte ame ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad esso nell'ora della nostra morte ame ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad esso nell'ora della nostra morte ame ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad esso nell'ora della nostra morte ame ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad esso nell'ora della nostra morte ame gloria al padre al figlio allo spirito santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad esso nell'ora della nostra morte ame gloria al padre al figlio allo spirito santo come era in principio e sempre nei secoli dei secoli amen adoriamo e benediciamo ogni momento con maria vergine il santissimo nome di gesù nostro salvatore gesù rivelò alla serva di dio suor sen pierre carmelitana di tour nel 1843 queste parole il mio nome è da tutti bestemmiato gli stessi fanciulli bestemmiano e l'orribile peccato ferisce apertamente il mio cuore il peccatore con la bestemmia maledice dio lo sfida apertamente a niente alla retenzione pronuncia da sé la propria condanna la bestemmia una freccia avvelenata che mi penetra nel cuore io ti darò una freccia d'oro per cicatrizzarmi la ferita dei peccatori la ferita dei peccatori la freccia d'oro per cicatrizzare la ferita delle bestemmi è questa sempre salutato benedetto amato adorato glorificato il santissimo il sacratissimo l'adoratissimo eppure incomprensibile nome di dio in cielo in terra o negli inferi da tutte le creature uscite dalle mani di dio per il sacro cuore di nostro signore gesù cristo nel santissimo sacramento dell'altare sia lode e gloria a te gesù ogni volta che ripeterai questa formula ferirai il mio cuore d'amore tu non puoi comprendere la malizia e l'orrore della bestemmia se la mia giustizia non fosse trattenuta dalla misericordia schiaccierebbe il colpevole verso il quale le stesse creature inanimate si vendicherebbero ma io ho l'eternità per punirlo o se sapessi quale grado di gloria ti darà il cielo dicendo una sola volta o ammirabile nome di dio ispiro di riparazione per le bestemmie anche noi impariamo questa piccola gioculatoria o ammirabile nome di dio in riparazione delle bestemmie lo diciamo in ogni momento durante il giorno di ha detto che ci sarà un grande grado di gloria per ognuno che la recita anche una sola volta questa gioculatoria o ammirabile nome di dio ammirabile nome di dio il spirito di riparazione per le bestemmie salve regina mare di misericordia vita dolcezza speranza nostra salve a te ricorriamo esuli figli di eva a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime o sud dunque avvocata nostra rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo quest'esilio gesù il frutto benedetto del tuo seno o clemento pia o dolce vergine maria litanie al santissimo nome di gesù gesù figlio di dio vivo abbi pietà di me gesù splendore del padre abbi pietà di me gesù vera luce eterna abbi pietà di me gesù re di gloria abbi pietà di me gesù sole di giustizia abbi pietà di me gesù figlio della vergine maria abbi pietà di me gesù amabile abbi pietà di me gesù ammirabile abbi pietà di me gesù dio forte abbi pietà di me gesù padre del secolo futuro abbi pietà di me gesù angelo del gran consiglio abbi pietà di me gesù potentissimo abbi pietà di me gesù pazientissimo abbi pietà di me gesù obbedientissimo abbi pietà di me gesù mite umile di cuore abbi pietà di me gesù amante della castità abbi pietà di me gesù che tanto ci ami abbi pietà di me gesù dio della pace abbi pietà di me gesù autore della vita abbi pietà di me gesù esempio di ogni virtù abbi pietà di me gesù che vuoi la nostra salvezza abbi pietà di me gesù nostro dio abbi pietà di me gesù nostro rifugio abbi pietà di me gesù padre di ogni povero abbi pietà di me gesù tesoro di ogni credente abbi pietà di me gesù buon pastore abbi pietà di me gesù vera luce abbi pietà di me gesù eterna sapienza abbi pietà di me gesù bontà infinita abbi pietà di me gesù nostra via e nostra vita abbi pietà di me gesù gioia degli angeli abbi pietà di me gesù re dei patriarchi abbi pietà di me gesù maestro degli apostoli. Abbi pietà di me, Gesù, luce degli evangelisti. Abbi pietà di me, Gesù, fortezza dei martiri. Abbi pietà di me, Gesù, sostegno dei confessori. Abbi pietà di me, Gesù, purezza delle vergini. Abbi pietà di me, Gesù, corona di tutti i santi. Abbi pietà di me. Sia a noi propizio, perdonaci, Gesù. Sia a noi propizio, ascoltaci, Gesù. Da ogni peccato, liberaci, Gesù. Dalla tua giustizia, liberaci, Gesù, dalle insidie del maligno. Liberaci, Gesù, dallo spirito impuro. Liberaci, Gesù, dalla morte eterna. Liberaci, Gesù, dalla resistenza alle tue ispirazioni. Liberaci, Gesù, per il mistero della tua incarnazione. Liberaci, Gesù, per la tua nascita. Liberaci, Gesù, per la tua infanzia. Liberaci, Gesù, per la tua vita divina. Liberaci, Gesù, per il tuo lavoro. Liberaci, Gesù, per la tua agonia e la tua passione. Liberaci, Gesù, per la tua croce e il tuo abbandono. Liberaci, Gesù, per le tue sofferenze. Liberaci, Gesù, per la tua morte e sepoltura. Liberaci, Gesù, per la tua resurrezione. Liberaci, Gesù, per la tua ascensione. Liberaci, Gesù, per averci dato la Santissima Eucaristia. Liberaci, Gesù, per le tue gioie. Liberaci, Gesù, per la tua gloria. Liberaci, Gesù. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudiscici, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Guarda, o Padre, questa tua famiglia che onora il santo nome di Gesù, tuo figlio. Donaci di gustare la sua dolcezza in questa vita. Per godere la felicità eterna nella Padre del Cielo. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Adoriamo e benediciamo in ogni momento con Maria Vergine il Santissimo nome di Gesù, nostro Salvatore. Grazie per aver pregato insieme questo rosario, è un rosario molto potente. Voi sapete, abbiamo detto anche all'inizio, che oggi è un giorno importantissimo, è la solennità del Santissimo nome di Gesù. Voi sicuramente avete visto sempre in chiesa, nell'ostia, ovunque questa piccola scritta, JHS. Questo significa Gesus, hominum salvator. Gesù, Salvatore degli uomini. Gesù significa Dio salva. E allora noi, durante il giorno, portiamo nel cuore e sulla bocca, il nome di Gesù. Perché nel nome di Gesù scappano tutti i demoni. Nel nome di Gesù arriva la guarigione. Nel nome di Gesù arriva la soluzione ad ogni difficoltà. Allora noi impariamo a ripetere questo Santissimo nome, Gesù. Gesù, aiutami. Gesù, accompagnami. Gesù, vieni con me. Gesù, facciamo questo insieme. Gesù, oggi mi sento triste. Gesù, aiutami. Gesù, salvami. Gesù, liberami. Gesù, ti amo. Gesù, ti adoro. Gesù, ti lodo. Gesù, grazie. È vero. Gesù, grazie. 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 Gesù, grazie Il nostro pensiero quotidiano e anche la sera quando andiamo a dormire Gesù proteggimi in questa notte Gesù io ti amo Gesù grazie per quello che mi è dato in questo giorno e Gesù aiutami, aiutami ad affrontare il giorno di domani, aiutami ad essere migliore, aiutami a trovare la strada giusta. Perché a volte non sappiamo prendere la decisione giusta non sappiamo qual è la decisione giusta qual è la volontà di Dio e allora grazie a voi siete stati tantissimi questa sera e vive a Gesù sempre. Ricordo che noi siamo qui per ogni necessità se volete qualche preghiera particolare ci scrivete lo scrivete sotto questo video o qualsiasi nostro video. E noi siamo sempre qui per pregare insieme ed essere il sale della terra e la luce del mondo insieme a voi. Grazie a tutti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.